Fotografie perfette in spiaggia. Quello di oggi non è un topic che mi sia stato richiesto, eppure so che è un tema che a molti di voi interessa parecchio, anche perché le vacanze si avvicinano. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e sono un fotografo che fa video su YouTube. E oggi vi voglio raccontare quali sono i miei contesti preferiti e anche le mie impostazioni preferite per realizzare delle foto perfette in spiaggia. Passeremo in rassegna dei contesti diversi e andrò a raccontarvi quella che è la mia esperienza e quali sono alcuni trucchetti per realizzare delle immagini perfette evitando dei problemi che sono abbastanza ricorrenti in tutte le situazioni. Ovviamente la primissima cosa, la raccomandazione ed obbligo, facciamo sempre molta attenzione a tenere la nostra strumentazione al riparo da polvere e sale. Infatti questi sono elementi che possono essere molto dannosi per la nostra strumentazione. In particolare la sabbia non deve assolutamente riuscire a farsi strada verso il sensore, altrimenti ci ritroveremo l'immagine piena di puntini e dovremo poi pulire il sensore una volta tornati a casa. Ora se scattiamo in spiaggia per tutto il giorno diventa molto difficile tenere la nostra strumentazione al riparo. Per cui vi consiglio nel caso stiate pianificando la cosa con il dovuto anticipo di procurarvi qualche protezione. In particolare vi lascio in descrizione qualcosa che potete trovare su Amazon per coprire in particolare la vostra strumentazione fotografica, in particolare la fotocamera e l'obiettivo. Con un calzino di questo tipo potete proteggere la vostra strumentazione durante uno shooting in spiaggia in maniera tale da stare tranquilli ed evitare che polvere e sale raggiungano le parti più delicate della vostra strumentazione. Ovviamente la ricetta perfetta per proteggere la nostra strumentazione non esiste, però vi posso assicurare che quelli che metteranno un like a questo video in questo preciso istante e seguiranno anche il mio canale avranno un bel 30% in meno di possibilità di trovarsi della polvere sul sensore a seguito di uno shooting in spiaggia. Cominciamo col dire che purtroppo i tramonti sono difficili da prevedere, il clima non lo controlliamo noi e quindi noi non sappiamo che cosa ci troveremo di fronte, non sappiamo che scena stiamo andando a fotografare. La cosa che possiamo fare è avere la nostra macchina fotografica con noi e nel momento in cui ci rechiamo in un contesto dove è possibile trovare una bell'alba o un bel tramonto possiamo prevedere di trovarci di fronte a una scena idilliaca di questo tipo. Ora io vi posso dire una cosa, in base alla mia esperienza fotografare un'alba è molto più facile che fotografare un tramonto. Questo perché durante un tramonto la spiaggia sarà piena di gente soprattutto se ci troviamo in alta stagione quindi nel momento in cui andiamo a realizzare uno scatto di questo tipo è molto più facile se lo realizziamo al sorgere del sole perché al sorgere del sole la gente in vacanza probabilmente sarà ancora in ampia parte dormiente mentre al tramonto la spiaggia sarà gremita di turisti. Quindi questo è il primo consiglio che vi do, nel momento in cui vogliamo realizzare uno scatto di questo tipo è molto più facile riuscire ad avere una visuale pulita se ci alziamo prima degli altri. Al tramonto la gente sarà comunque sveglia, sarà pieno di persone quindi sarà molto più difficile portarsi a casa uno scatto pulito. Va detto che nel momento in cui realizziamo uno scatto di questo tipo stiamo ragionando su un paesaggio quindi fondamentalmente le impostazioni potrebbero essere molto simili a quelle che utilizzeremo per scattare landscape. In questo caso di solito cercheremo di usare un diaframma abbastanza chiuso per avere una profondità di campo abbastanza distesa da mettere a fuoco sia il mare sia le nuvole. Quindi stiamo sicuramente tra f8 e f13. Sicuramente con qualsiasi lente, con qualsiasi dispositivo fotografico stiamo utilizzando l'impostazione migliore è questa. Ovviamente cerchiamo di tenere gli ISO più bassi possibile perché più bassi sono gli ISO maggiore è la gamma dinamica che siamo in grado di catturare quindi saremo in grado di mantenere i dettagli sia nel mare sia nelle alte luci del cielo. Quindi se riusciamo a scattare ISO 100 è l'ideale. Per quanto riguarda i tempi regoliamoli di conseguenza abbiamo regolato i primi due parametri i tempi cerchiamo di gestirli come meglio possiamo per avere l'esposizione ottimale. Ovviamente se stiamo scattando a mano libera non potremo dilatare tanto i tempi di scatto quindi dovremo fare un compromesso e magari alzare un pochino gli ISO. Se invece abbiamo con noi un treppiede si aprono degli scenari molto molto interessanti. Ora non è mia intenzione farvi vedere un treppiede perché sapete già che cos'è ma vi faccio vedere questo invece. Questo è un simpatico filtrino di cui vi lascio ovviamente la descrizione in infobox e questo è un filtro della Wurt ed è un filtro ND 64000 da 77 mm. Il diametro ovviamente non conta nulla dovete prendere il diametro corretto per la vostra lente quale che sia. Io utilizzo quasi tutte lenti da 77 mm e quindi questa per me è la scelta più ovvia. Che cosa fa questo filtro? Fondamentalmente è un filtro che va a tagliare la luce in ingresso nella nostra fotocamera quindi andando a montarlo sul frontale del mio obiettivo e ruotandolo io posso decidere di tagliare gran parte della luce in ingresso. Questo che cosa significa? Nel momento in cui io sono su treppiede e taglio la luce in ingresso posso agire sull'unico parametro che non va a modificare la mia immagine in una maniera indesiderata quindi i tempi per cui il mio diaframma rimane F8. I miei ISO rimangono ISO 100. Vado a modificare i tempi di scatto in modo da prolungarli e vado a scattare magari con 15 20 30 secondi di posa. In questo modo otterremo questo bellissimo effetto che vi faccio vedere che si chiama effetto seta o ci sono tanti modi per chiamarlo. Fondamentalmente è un'esposizione lunga. La cosa interessante in questo caso è che noi allungando l'esposizione fondamentalmente creiamo questo effetto seta su tutto ciò che si muove quindi fondamentalmente sul mare ma anche sulle nuvole se riusciamo a tenere aperta la tendina abbastanza lunga e per fare questo può tornarci utile un dispositivo come questo. Questo di cui ho già parlato in un altro video in cui parlavo della fotografia infrared è un intervallometro. È un dispositivo abbastanza costoso devo dire perché non te lo regalano mica e si collega solamente con le fotocamere di fascia un pochettino più alta quindi l'entry level non ce l'hanno l'ingresso per questo. Però questo è molto interessante perché ci consente di andare oltre il limite naturale di 30 secondi imposto dalla nostra fotocamera. Sapete che la maggior parte delle nostre fotocamere ci permettono di scattare da un 4 millesimo di secondo a 30 secondi. Non ci permettono di fare un minuto, due minuti, tre minuti. Ebbene con questo si può bypassare questo limite e io qui per esempio l'ultima impostazione che vedo segnata, l'ultima foto che ho fatto con questo dispositivo segna 6 minuti. Quindi ho fatto 6 minuti di posa e sicuramente stavo utilizzando un filtro come questo perché tagliando la luce in ingresso rendendo praticamente cieca la nostra fotocamera io posso dilatare di parecchio i tempi e quindi scattare in maniera tale da rendere la superficie del mare perfettamente piatta. Ora questo è un trucco molto ma molto utile anche se vogliamo eliminare delle eventuali persone che sono presenti sulla nostra scena perché se io vado a scattare una foto con un tempo di posa così lungo le persone camminando muovendosi verranno automaticamente cancellate dal mio fotogramma perché la fotocamera andrà a sovrascriverle in quanto non si trovano mai nello stesso posto continuano a muoversi e quindi non verranno catturate nella fotografia. Quindi veramente molto molto utile questa accoppiata per realizzare fotografie in spiaggia di grande effetto. Ovviamente una volta che siamo lì possiamo spaziare i generi fotografici che possiamo affrontare sono tantissimi. Possiamo utilizzare ottiche diverse e tecniche diverse per realizzare immagini incredibilmente accattivanti. Possiamo utilizzare il drone, possiamo utilizzare il teleobiettivo. Le possibilità sono pressoché infinite. Una cosa che può essere di grande effetto è lavorare sulla nostra composizione. In particolare una cosa che a me piace molto fare è cercare di creare un po' di contesto mettendo qualcosa in primo piano e qualcosa sullo sfondo. Nelle immagini che abbiamo visto finora fondamentalmente c'era solamente uno sfondo che può essere esattamente quello che vogliamo perché se abbiamo di fronte un tramonto meraviglioso magari ce lo siamo trovato lì per caso, magari non abbiamo tempo o magari non abbiamo la possibilità di allestire una scena. Quindi fotografiamo la spiaggia con il cielo dietro e basta. Però nel caso in cui avessimo invece pianificato la cosa o nel caso in cui ci si presentasse davanti la scena perfetta con già tutto pronto, dobbiamo magari solo spostare qualcosina, possiamo realizzare delle immagini molto molto accattivanti prendendo per buono lo sfondo che la natura ci ha messo a disposizione e mettendo l'accento su un qualcosa che mettiamo in primo piano che può essere un elemento naturale, un elemento architettonico, una persona. Insomma possiamo ingegnarci per utilizzare semplicemente lo sfondo meraviglioso che abbiamo a disposizione come fondale e mettere qualcosa in primo piano che sia rappresentativo della scena ovviamente. Diciamo che io mi aspetto a trovare qualcosa di caratteristico del posto oppure una persona in costume da bagno in questo caso. Non mi aspetto di trovare un televisore Samsung, ecco sarebbe abbastanza strano. Sempre a questo proposito possiamo sfruttare diverse fasi luminose della giornata per creare delle fotografie molto molto accattivanti, in particolare quando la luce comincia a calare, quando siamo in prossimità del tramonto, anzi magari quando siamo anche dopo il tramonto in maniera tale che non ci sia più così tanta luce sui nostri soggetti, possiamo realizzare delle immagini in stile silhouette che possono essere di grandissimo effetto. Vi faccio vedere qualche esempio. Nel momento in cui la luce proviene quasi esclusivamente da dietro le persone che stiamo fotografando, quindi quando abbiamo un bel tramonto sul mare, possiamo realizzare dei ritratti fondamentalmente in cui il soggetto non è più pieno ma rimane semplicemente una silhouette scura contro il nostro bellissimo sfondo colorato. Questa può essere un'immagine di grandissimo effetto dove noi non stiamo più fotografando la persona in quanto tale ma stiamo fotografando uno stile di vita, un momento, è una sorta di idea della spiaggia e della vacanza. Ovviamente in questo caso terremo i parametri come già detto in precedenza ma probabilmente andremo a velocizzare i tempi di scatto per avere i nostri soggetti un pochettino più scuri rispetto allo sfondo. In questo caso vi dico anche che potremmo aprire il diaframma perché può essere che non vogliamo più avere tutto quanto così a fuoco, quindi potremmo avere i nostri soggetti principali a fuoco e staccare un pochino dallo sfondo aprendo il diaframma e a questo punto regolando i tempi di conseguenza. Quindi potremmo andare magari a f2.8 e potremmo a questo punto chiudere a un 250esimo di secondo, dovrebbe essere l'ideale. Quindi con delle impostazioni di questo tipo potremmo essere in grado di realizzare delle silhouette molto molto accattivanti. Poi ovviamente dipende dal contesto luminoso in cui operiamo, non ci sono due tramonti uguali o due albe uguali e quindi a seconda della scena che abbiamo di fronte i nostri parametri possono sempre cambiare. Sempre parlando di silhouette, e qui ovviamente arriva la nerdata del giorno, parlando di silhouette noi possiamo avere l'esposizione che abbiamo appena fatto, quindi noi abbiamo esposto per il cielo e abbiamo i nostri soggetti a questo punto che sono scuri. Ma che cosa succede se noi introduciamo un fill flash? Riempiamo la nostra scena aggiungendo un flash, che può anche essere il flash sulla nostra fotocamera. Ovviamente se abbiamo un flash esterno, tipo uno speedlight, anche da tenere in mano è meglio, ma possiamo cavarcela anche semplicemente con il flash sulla nostra camera se siamo nei guai, se non abbiamo nient'altro. Nel momento in cui abbiamo un bel tramonto e abbiamo esposto correttamente per il tramonto, introduciamo un flash che ovviamente non avrà effetto sul tramonto perché non arriva fin lì e non è abbastanza potente, ma avrà effetto sulla nostra persona in primo piano, sul nostro soggetto in primo piano. Ecco che bilanciando la potenza del flash sull'esposizione che abbiamo già fatto sul tramonto possiamo ottenere probabilmente la cosa più tecnica che possiamo fare in spiaggia, ovvero un ritratto ambientato con la luce che è esattamente come la vogliamo sia sullo sfondo sia sul soggetto. Perché dico la cosa più tecnica che possiamo fare? Effettivamente parlando di filtri e di intervallometro anche questa è una cosa molto tecnica, però questa è una cosa che prevede un'unica fonte luminosa, quindi nel momento in cui siamo in spiaggia e scattiamo anche con intervallometro abbiamo fatto la nostra esposizione e quella è una cosa che io reputo più semplice. Mentre fare un'esposizione per lo sfondo e poi bilanciare la luce che abbiamo sul soggetto è una cosa che secondo me richiede un pochettino più di tecnica. Nel momento in cui lo facciamo con una luce flash magari da studio con un modificatore ecco che otteniamo l'effetto più sofisticato possibile che possiamo avere in un contesto di questo tipo. Ovviamente è una foto che non è più così facile da fare e qui veramente vi consiglio di farla all'alba perché qui non siamo in grado di eliminare eventuali fonti di disturbo come possono essere persone sullo sfondo, quindi probabilmente in una foto come questa staremo un po' più stretti, non sarà più così ampia, staremo più stretti sulla persona che stiamo fotografando, quindi magari è più facile escludere eventuale fonte di disturbo sullo sfondo, però non possiamo eliminarle completamente quindi se ci presentiamo all'alba ci garantiamo una posizione di vantaggio e siamo sicuri di avere meno persone che possono interferire con la nostra composizione. Ulteriori consigli per immagini perfette quando ci troviamo in un contesto di mare, ovviamente cerchiamo di gestire la temperatura colore già in macchina. È vero che se stiamo facendo foto e stiamo scattando in RAW possiamo modificare questo parametro in post produzione avendo zero caduta qualitativa, però è anche vero che se torniamo a casa e abbiamo già impostato correttamente questo parametro prima dobbiamo fare meno lavoro, secondo abbiamo una resa più fedele perché magari passa del tempo tra quando scattiamo e quando esportiamo le foto sul nostro computer, quindi magari ci dimentichiamo com'era il colore quel giorno. Se noi andiamo a impostare la temperatura in gradi kelvin sulla nostra fotocamera e la impostiamo correttamente in modo da vedere perlomeno a display la scena con i colori fedeli di quello che abbiamo davanti, è molto molto più facile che riusciamo a mantenere quella fedeltà e a trasferirla sulle nostre immagini finali una volta tornati a casa a computer. Altro consiglio prettamente tecnico, facciamo attenzione ovviamente a dove ci collochiamo per realizzare le nostre foto, ve lo dico per almeno due motivi. Il primo, se stiamo scattando magari una fotografia in un ambito costiero e siamo sugli scogli, facciamo molta attenzione perché siamo comunque in presenza di superfici che possono essere scivolose, quindi visto che siamo lì con fotocamera, treppiede e quant'altro, facciamo attenzione perché lì se scivoliamo, al di là del fatto che ci spacchiamo la testa perché abbiamo la macchina in mano e quindi non riusciamo a mettere giù le mani, quindi facciamo molta attenzione. E poi appunto se ci cade la strumentazione in acqua, oltre ad esserci già spaccati la testa e quindi amen, però roviniamo anche la nostra strumentazione, quindi particolare attenzione da questo punto di vista. Un'altra cosa a cui dobbiamo stare molto attenti è posizionare correttamente il nostro treppiede perché se stiamo facendo una fotografia per esempio sulla battigia e quindi mettiamo il treppiede in acqua fondamentalmente, lo possiamo fare, è una cosa che si fa, dobbiamo fare attenzione a posizionarlo molto ma molto bene, magari cacciando le zampettine un po' a fondo nella sabbia perché le onde che passano possono e anzi creeranno sicuramente un movimento che noi non vogliamo nelle nostre immagini, quindi ogni onda che passa muoverà la sabbia sotto ai nostri piedini e ci farà potenzialmente sballare la composizione, quindi dobbiamo stare molto attenti a questa cosa e conficcare il treppiede abbastanza a fondo nella sabbia in maniera tale che non si muova. Stiamo comunque molto molto attenti perché se arriva un'onda anomala più alta delle altre ci cappotta sia a noi sia al nostro treppiede con tanto di fotocamera e tanti saluti ai suonatori. Un'ultima cosa che vi dico è fate attenzione soprattutto se siete in Italia, non tanto per le multe perché non prendete delle multe se state facendo una fotografia all'alba perché fondamentalmente non state dando fastidio a nessuno, quindi anche se ci vorrebbe un permesso per scattare con treppiede ormai anche per respirare bisogna pagare, hanno trovato un modo per farci pagare qualsiasi cosa. Però fondamentalmente se siamo in una località turistica nessuno vi dà una multa perché state facendo una foto, quindi non è tanto quello il problema. Però ricordatevi che soprattutto in Italia c'è quasi sempre un proprietario o un gestore della spiaggia e questo verrà immancabilmente a rompervi le scatole perché non avete pagato il vostro gettone per stare lì. Quindi quando facciamo questo tipo di shooting dobbiamo stare attenti, guardarci bene intorno, non perché siamo dei criminali ma perché è sempre in agguato un proprietario o un gestore che arriva lì a romperci le scatole se non abbiamo pagato i nostri 40 euro al giorno per l'ombrellone. Ovviamente in un caso come questo per quanto mi riguarda io non dovrei essere tenuto a pagare assolutamente niente, non sto usufruendo della spiaggia, non sto usufruendo dell'ombrellone, sto facendo una cosa temporanea che non dà fastidio a nessuno. Quindi per quanto mi riguarda la risposta da dare è sì sì finisco subito. Poi se uno insiste, si lamenta, pretende dei soldi o cose del genere a questo punto io desisto e me ne vado. Però vi segnalo questa cosa perché soprattutto in Italia rompono tantissimo le scatole su questa cosa perché vogliono i vostri soldi. Ovviamente noi non ci mettiamo a pagare un ombrellone per fare una foto perché pagare l'intera giornata magari o mezza giornata solamente per stare lì dieci minuti a fare la foto vi dico anche che non ne vale assolutamente la pena. Però vi segnalo che c'è questa possibilità quindi state un po' all'occhio soprattutto se è uno stabilimento dove ci rendiamo conto se è una spiaggia gestita state sicuri che vi romperanno le scatole tempo zero. E ora veniamo alle precauzioni una volta rientrati dallo shooting. Mi raccomando ragazzi puliamo tutta la strumentazione subito immediatamente prima cosa quando arriviamo a casa. Prima cosa ci togliamo le scarpe se proprio volete vi fate la doccia se siete anche stati a fare il bagno o cose del genere però seconda cosa massimo seconda cosa pulire la strumentazione perché tutto quello che può essersi accumulato sulla nostra strumentazione quindi sale e sabbia fondamentalmente più sta lì e peggio è più sta lì e più ce lo dimentichiamo più sta lì e più ci cominciamo a dire vabbè ma non è successo niente in fondo posso anche non lavarla e invece no perché poi abbiamo lì una situazione dove magari può entrare in gioco la corrosione e quindi abbiamo peggiorato la situazione quindi quando rientriamo da uno shooting in una zona di mare puliamo subito la strumentazione tutta quindi puliamo la lente puliamo l'ottica puliamo il frontale dell'obiettivo passiamo un panno inumidito con acqua dolce su tutta la superficie della fotocamera facciamo poi magari una pennellata intorno alle parti alle superfici sensibili dell'innesto della baionetta a questo punto smontiamo l'ottica e andiamo a verificare magari con un lentino se è il caso di andare a pulire anche il sensore prima di farlo magari possiamo fare uno scatto di prova contro un muro bianco contro un armadio bianco contro il cielo col diaframma molto chiuso in maniera tale da renderci conto se c'è sedimento di sabbia o quant'altro sul sensore se c'è io consiglio di andare a pulirlo subito a questo punto è meglio farlo subito e togliersi il pensiero piuttosto che lasciare sul sensore qualcosa che magari sedimenta magari si appiccica magari lascia anche l'alone quindi è molto meglio farlo subito o farselo fare subito da qualcuno che è capace se noi non siamo capaci introduco un'ultima parte in questo mio video che è la strumentazione preferita per questo genere di shooting ora questa è una cosa che mi chiedete sempre in tanti che cosa serve per fare questa cosa che strumentazione devo usare che macchina devo usare che lente devo usare quindi faccio questo paragrafo per risparmiarmi un po di risposte a domande come questa in futuro fondamentalmente non esiste una strumentazione giusta per fare questo tipo di immagini potete usare quello che volete potete usare la macchina che volete e la lente che volete non cambia assolutamente niente ovviamente se volete fare un paesaggio prendendo tutta la spiaggia e non mandate con un 600 mm andate con un grand angolo allo stesso modo se volete fare una silhouette con dietro il tramonto sfocato non andate magari con un fisheye ma andate con un 50 mm con un 85 mm anche con un 300 mm insomma dipende dall'effetto che vogliamo ottenere non esiste una lente sbagliata tutte le lenti sono buone a seconda della lente che abbiamo faremo qualcosa di diverso una cosa che a me piace molto pensare quando sono fuori con una macchina fotografica è che non esiste la macchina fotografica giusta esiste semplicemente una foto diversa che mi porterò a casa in funzione di quello che mi sono portato ma una foto la possiamo fare sempre quindi riusciremo sempre a tirare fuori qualcosa ovviamente capitano i momenti sfortunati se siamo in un contesto per cui vediamo il tramonto attraverso un'insenatura ed è piccolino in fondo e abbiamo davanti delle montagne ecco che col grand angolo prenderemo tante montagne poco tramonto lì sarebbe stato meglio un super tele però quello è l'imponderabile non possiamo saperlo quindi secondo me andiamo sereni con qualsiasi obiettivo magari ragioniamoci un attimino prima nel senso che se siamo a san fruttuoso sappiamo che la baia è piccola sappiamo che se c'è un tramonto sarà abbastanza distante quindi lì è inutile andare con un fisheye magari è molto meglio utilizzare un 50 mm viceversa se siamo in sardegna abbiamo una spiaggia gigante tutta per noi lì magari è proprio il caso di utilizzare un grand angolo abbastanza spinto anche perché quando utilizziamo un grand angolo anche molto spinto in un contesto del genere qui non c'è architettura non ci sono linee dritte da seguire quindi la distorsione non ci dà più fastidio ce ne freghiamo a questo punto l'unica cosa che dobbiamo stare attenti è tenere dritto l'orizzonte ma per il resto possiamo fare quello che vogliamo perché non ci sono delle linee artificiali che si stortano e che quindi ci vanno a segnalare che c'è una distorsione questa è natura quindi la distorsione non si vede certo una cosa di cui possiamo tenere conto è che magari se stiamo utilizzando una fotocamera full frame è possibile che abbiamo una gamma dinamica un pochettino espansa rispetto a una fotocamera con un sensore più piccolo questo è possibile ma dipende anche dalla camera che stiamo usando perché comunque ormai anche i sensori più piccoli hanno una tolleranza veramente fantastica inoltre non dimentichiamoci mai che se la gamma dinamica è il nostro problema e vi lascio un video linkato in card a questo riguardo possiamo sempre ricorrere al bracketing io lo faccio spessissimo scattare in bracketing significa realizzare più di una foto io sono su tre piede e scatto tre cinque o magari anche sette foto esattamente della stessa composizione con tempi di posa diversi quindi avremo una foto troppo chiara una foto giusta una foto troppo scura unendo queste tre foto in post produzione tiriamo fuori dei dettagli che con un singolo scatto avremmo perso perché magari avremo catturato correttamente il cielo ma la terra sarebbe stata troppo buia o il contrario invece facendo questo giochino abbiamo tre scatti o più cinque sette scatti quanti ne vogliamo in realtà possiamo farlo anche a mano abbiamo più scatti e possiamo tirare fuori tutti i dettagli in post produzione con dei risultati che sarebbe impossibile ottenere altrimenti bene amici tutto quello che vi ho detto ve l'ho raccontato sulla fotocamera ma sono tutte cose che possono funzionare anche con lo smartphone ovviamente ci vogliono un po di accortezze nel momento in cui vi ho parlato di una tecnica specifica che funziona su fotocamera è probabile che funzioni anche su smartphone a condizione magari di andare a toccare lo schermo e dargli un'esposizione col ditino oppure di utilizzare una modalità che ci permette di scattare in manuale esistono i treppiedini anche per smartphone e udite udite esistono i filtri anche per smartphone quindi molte delle cose che vi ho detto si possono fare anche semplicemente col telefono cellulare posto che poi la maggior parte delle cose il telefono le fa in automatico quindi dovrete essere meno tecnici di quello che vi ho detto a questo punto io vi rimando come sempre nei commenti se avete domande osservazioni su quanto detto se ho dimenticato qualcosa qualche contesto particolare di cui vogliamo discutere ne parleremo in commenti e io probabilmente vi risponderò con uno shorts ci metto un po di tempo a rispondere agli shorts quindi non vi offendete se vedete che non vi rispondo subito ma se me lo sono perso non fatevi remore a scrivermi di nuovo perché può essere che magari io mi perda qualche commento ogni tanto l'app non è precisissima io magari ogni tanto scrollando qualche commento posso perdermelo proprio posso dimenticarmi di non aver risposto e magari finisce in quelli vecchi e poi non lo becco più quindi se vedete che dopo quattro giorni non vi ho risposto scrivetemi di nuovo senza problemi ovviamente se volete essere sicuri di vedere la risposta in formato shorts io vi consiglio di iscrivervi adesso perché altrimenti poi magari ve la perdete in quanto non siete iscritti e noi non vogliamo che questo succeda se avete imparato qualcosa di interessante in questo mio contenuto vi invito anche a lasciare un bel like a questo video così mi date una mano a crescere sull'algoritmo di youtube molto bene amici a questo punto io vi lascio andare alle vostre vacanze è stato un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video